Salve buonasera a tutti benvenuti qui a questo nuovo mio video Alla torre di zaffira Si può trovare la città vecchia Benissimo Cosa aspettiamo? Inventuriamo in una torre di zaffira Zaffira 3, 2 1 Si parte Eccoci qua Con brutto sguardo e pieno guardia del campo Andiamo 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 Allora Andiamo 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 mi riesce a quello della metodologia vabbè non è un'altra quantissima metodologia per carità ho visto cosa non ha nessun se così vuoi e vabbè dai sediamo a mezzo sguardo immaginando il ghiaccio 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 che cazzo mi fa venire perché apri la pelle che cosa l'hai distrutto no ti vedi una cosa un po' strana non vedi non è strana ninja quanto è bevita possiamo pensare in comune o degli ancora bacino il 30 mi voglio anche se no profisce un foglietto scuro fantastico non so che lo uso con il bascino mi preferiva a questo per fortuna è distrutto prendo un'idea di guai c'è una trappola no ma vero agno teneremo una super più vita adesso me la mangia però intanto non mi sentire troppe la super più vita se si bene intanto intanto che scudo uso ce l'ho mia cosa qua il sub non solo colpo no 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 mi serve aspetta un attimo che sono cogliore non mi serve però mi serve a me lo so scrivere il tempo mi sembra la carta giusta no merda brutta merda ecco poi arriva la carta che mi serviva aspetta un attimo se è proprio quella vabbè dai le carte di solo non uso più carte anche con molti sogni mi comprono su un segnale della fuori esse però però non uso carta strale anche per cort round dentro in più per trappola devo ritornare abbazzarmi un solo colpo dovrei scu non uso questo metodo carte strane come le carte del tesoro no non l'ha distrutto definitivamente vabbè dai però rimasto solo con 25 95 vabbè dai facciano fuori quelli più strani bevi strani che magnetto con 5 pepita da montare un moneo 6 pepita per prescindere un magnetto questo è un bel centauro benissimo vabbè dai se mi basta tempo qualche che faccio tutti i miei video sono di circa su 10 minuti che non so perché per quali cazzi il mio computer non ha legge quelli di più ho fatto prima un mio subisterio quando avevo un elaboramento di 15 minuti insomma non me lo leggeva diceva che era troppo grande perciò non faccio 10 minuti 11 minuti quel tempo non so se stai spingendo qualcosa perché sono semplici questi ragazzi non non è questo che voglio mostrare e questo mi ricordo come cazzo si chiama ah già soldato queen però pure battere un bel boss si dirà c'è un boss bel vino bot mi pare si così si chiama quel coglione un uomo di magma un uomo di magma un uomo di magma eccolo qua uomo di magma vediamo dai faccio in fretta perché dopo volevo andare avanti se gli ho qualche ilfo e vediamo se faccio tutto in un video vai torre zaffira più piccolo che a 30 65 pensavo di metterci molto di più alla torre di zaffira però mi sono sbagliato questa volta beh non è la prima volta ok ho fatto fuori subito adesso molto bene adesso un elfo un elfo del fuoco anti elfi in giro ecco un calciatore elfico del fuoco accidenti non mi serve proprio quando non mi serve me sfortuna del cazzo il cacchio sa beh c'è bisogno di un po' di gomm di bracamola di sub per primo no no aspetta del fuoco resiste forse un po' di resistenza ma no no l'ho sbagliato un'altra volta 8 minuti dai bene voglio dimostrare i miei vino bot che pensa wow wow frago la bionda 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 sicuramente questo video sarà a metà però lo faccio lo stesso per voi youtubers faccio lo stesso attendo torre forlon dai devi fare in fretta pure questa volta beh posso in un minuto a distruggere certo tranne se mi capita meteorite ho quel culo pazzesco di capitare meteorite mi offrisci solo una carta la moneta eccolo qua il pinobot per un sequestro segato non so che cazzo c'entra no non mi ha capito niente però però scarto delle carte allora meto lì meto lì meto lì meto lì mi servito meto lì no non mi fanno stupido vabbè il frutto non ha attaccato al passato direttamente pigia ancora sei forse non mi do lì do qualche botta di spargero 6 10 minuti 10 minuti mi ascolta dai 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 che li distrugga subito mi pare che non me lo leggeggia cosa è il genere vedai io sono venuto come se ho voluto la situazione sei tanto mi è uscito una cosa è già certa cinque ho fatto poi il suo estremato mi è meno un botto 30 io 110 addio eccomi qua no non cazzo no aspetta shooter una vera non voglio dire la parola ecco la resistenza perfetto a meno che mi capita un lebra camo o un domenetto ho dato poi della morte potenzia attacco della vita e dai mannaggia non capitato ma mi bastava un semplice cosa cazzo si chiama semplice un coppo di bacchetto non so perci non so nemmeno quelli cazzo oggi 12 minuti devo sbrigare devo sbrigare uccello del sole esce mi eccolo l'uccello del sole e ragazzi con questo mio ultimo incantesimo vi abbandono a quest'altro video ci vediamo da richard sprigia la morte ecco l'uccello del sole